Era stato già danneggiato nel mese di novembre scorso, dopo poco più di quattro mesi, ecco verificarsi un'analoga situazione, si tratta di un limitatore di altezza che troviamo qui in piazza Bagolino e come ci riferisce il comando della polizia municipale, è stato un camion che trasportava un trattore a causare questo danno, adesso attraverso la videosorveglianza si sta cercando di individuare il responsabile.